Situazione meteo di giovedì 29 novembre su Palermo e provincia. Pioggia intermittente e schiarite. I venti saranno prevalentemente forti e soffieranno dai libeccio possibili raffiche fino a 50 chilometri orari. Temperature comprese tra 12 e 15 gradi. Nel Catanese qualche nube sparsa. I venti sono prevalentemente moderati da ovest-sud-ovest. Temperature comprese tra 14 e 18 gradi. Per domani, venerdì 30 novembre, in provincia di Palermo, cielo nuvoloso. Vento sostenuto da sud-sud-ovest. Temperatura minima di 11 gradi, massima di 14. Sempre domani a Catania, cielo velato o poco nuvoloso. Vento da libeccio, temperatura minima di 11 gradi e massima di 16.